buongiorno a tutti ragazzi da pochissimi giorni ho scoperto un nuovo gioco di playstation 4 che mi sta piacendo molto in questo caso giocerò fra poco a Metal Gear Solid V e Grand Zeros è un episodio in un gioco action event del 2014 che è stato sviluppato da Kojima Production e pubblicato da Konami anche per playstation 4 l'episodio Grand Zeros si svolge dopo gli avvenimenti di Metal Gear Solid Peace Walker e praticamente funge ad anticamera a Metal Gear Solid V The Phantom Pain questo videogioco è stato fatto nel 2014 il gioco è ambientato in una zona in una base americana di Cuba che è chiamata Camp Omega in cui il protagonista principale in questo caso sarei io Big Boss deve infiltrarsi nel tentativo di salvare due ragazzi tenuti prigionieri Pazzo Ortega e Riccardo Valenziano adesso ragazzi vi lascio alla visione del video vi auguro buona visione e poi mi dite cosa ne pensate dal gioco io comunque le penso molto bene no more wargades, you're a real man now Soto give my regards to your boss when you get home we'll send a chopper from across the Cuban border you should be back at Mother Base in time for lunch you'll probably just miss our guests the only catch is you're going solo the politically sensitive nature of the mission needs backup is not an option fine, I like some alone time now and then and ecco che il protagonista Big Boss comincia a scalare la squadiera l'unito divisore notturno si sta avvicinando al Camp Omega l'unito divisore notturno si sta avvicinando al Camp Omega kept you ready, huh? before you go any further, use your binoculars to week on the area and ecco che ci avviciniamo alla base il nostro protagonista principale sta arrivando ragazzi bisogna una sulla torretta è eliminato ora possiamo avvicinarsi alla forza d'ingresso l'ha estetizzata la guardia apriamo la porta l'ha estetizzata l'ha estetizzata la guardia l'ha estetizzata 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 non avanzo sto sempre sul tetto andiamo sull'altro, vediamo se c'è qualche nemico ma io l'ai visto Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. Allentriamoci nell'accampamento. Grazie a tutti. Nascondiamoci nell'erba. Avanziamo. 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 Ecco. Avanziamo. 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 beccato non c'è nessuno 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 dai ragazzi non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno ragazzi